Noi parliamo di persone che hanno contratto la malattia, quindi persone sintomatiche, siano essi state ricoverate, siano al domicilio, sono diciamo così in convalescenza. Parliamo spesso di persone anziane, in percentualmente sono in quantità maggiore, anche se ci sono anche persone evidentemente che non sono anziane, ma persone magari che hanno anche una comorbidità, sono diabetici, ipertesi, cardiopatici. Parliamo di persone che per giorni, per settimane, spesso hanno avuto inappetenza, nausea, vomito, alcuni diarrea. Persone che per settimane e per mesi si trascinano un'alterazione della percezione del gusto e dell'olfatto. Persone che se sono state intubate possono avere dei problemi di deglutizione che si trascinano. In sostanza parliamo di persone che a causa di tutti questi fattori vanno incontro a un quadro di malnutrizione. Un quadro di malnutrizione che può andare incontro a una vera e propria cacchessia, cioè riduzione di massa muscolare ma anche riduzione di forza muscolare. Da qui l'assoluta forza muscolare, quindi muscoli respiratori, muscolo cardiaco. Da qui l'assoluta necessità di intervenire fin dalle prime fasi ma poi continuare per tutta la convalescenza finché la persona non recupera lo stato precedente con un'adeguata nutrizione. Dobbiamo partire da stabilire quello che è lo stato nutrizionale del paziente in quel momento. Ha perso peso, quanto peso ha perso, in quanto tempo l'ha perso e quindi fare un programma nutrizionale che preveda la quota calorica di cui ha necessità. Parliamo di una malnutrizione calorico-proteica, quindi dovremo aumentare la quota proteica che diamo a questi soggetti, circa 2-3 porzioni al giorno di proteine. Parliamo di carne, pesce, uova, legumi, importanti legumi. Un paio, due o tre somministrazioni di prodotti lattiero caseari, quindi latte, yogurt, formaggi. Per quello che riguarda i carboidrati, una porzione a ogni pasto. Parliamo di pasta, pane, pizza, patate, purè, ecco, per chi ha problemi di deglutizione una consistenza morbida è più desiderata. E quindi poi arriviamo alla quota di grassi, di grassi soprattutto come grassi polinsaturi, quelli del pesce, per esempio, del pesce azzurro e della frutta secca. E ecco, dobbiamo ricordare che abbiamo davanti persone che molto spesso hanno un intestino che è stato, così, è andato incontro a dei problemi, sia per la terapia che hanno fatto, sia per la malattia virale di per sé stessa. Quindi necessitano di un'integrazione con probiotici. Molto spesso c'è anche una carenza di alcune vitamine che devono essere integrate. Molta attenzione alla vitamina D che esercita un ruolo chiave nella modulazione del sistema immunitario. La vitamina D, se carente, e questo deve essere valutato ovviamente da un medico, deve essere assolutamente integrata. Possiamo poi, nei casi in cui non si riesce a somministrare la quota proteica desiderata, somministrare proteine di siero di latte in polvere, che si diluiscono in acqua, o aminoacidi essenziali. E nei casi in cui proprio non si riesca ad introdurre la quota desiderata di alimenti, ci sono dei prodotti del commercio liquidi che in poco volume contengono parecchie calorie, in particolare dovremo cercare quei prodotti che contengono una quota proteica superiore a quella che è desiderata. Ci vuole parecchio tempo. Possiamo parlare anche di qualche mese. Fondamentale in queste persone l'aspetto nutrizionale e l'attività fisica, che anche se lieve, anche se il paziente è allettato, deve cominciare da subito. Perché la compromissione della muscolatura compare già dopo pochi giorni di allettamento, soprattutto nelle persone anziali. Si perde subito massa muscolare.